In questo periodo non si fa che un gran parlare degli attacchi di Anonymous, per esempio, o degli attacchi dei ransomware. Ransomware che bloccano aziende sono veri e propri disastri. Dal sito di Red Hot Cyber ho preso alcuni articoli che mostrano alcune delle aziende che sono state recentemente colpite da ransomware. Ransomware che, dall'inglese, è un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Ad esempio, alcune forme di ransomware bloccano il sistema e intimano l'utente a pagare per sbloccare il sistema. Altri invece cifrano i file dell'utente chiedendo di pagare per riportare i file cifrati in chiaro. Adesso andiamo a vedere come funziona un ransomware. Per chi non ha mai avuto la sfortuna di vederne uno in azione, vi faccio vedere un semplice test. Questo video non vuole essere in nessun caso a scopo di incitare le persone a intraprendere azioni illegali. Questo è soltanto a scopo educativo e dimostrativo. Tutte le operazioni che sono svolte da questo momento vengono svolte su una macchina, su una VMware in questo caso, su una macchina virtuale che risiede sul mio computer. Quindi sono tutti i file del quale ovviamente io ho il permesso in quanto sono i miei file e il mio computer. Allora, prima cosa, io ho copiato qui su questo Windows 10 alcuni file, dei documenti, delle foto, eccetera eccetera. Allora, prima cosa, andiamo a generare il payload, quindi il ransomware, il virus. Questo è l'indirizzo IP del mio computer reale. Io ho scelto questo tipo di crittografia perché è molto veloce. Quest'altra è più lenta, ma non per questo non buona, anzi. Poi qui abbiamo alcune opzioni come custom message, per esempio, custom image. Fammi vedere se ho l'image di CrazyNet. Che ovviamente, se vuoi, ti puoi iscrivere al canale. Poi dopo abbiamo custom file. Qui ci sono tutti i file che solitamente si trovano. Zip, pdf, txt, doc, eccetera eccetera. Qui abbiamo le altre opzioni se demo, debug, self-destruct o run as admin, eccetera. Set target directory, download documents, picture, music, desktop e onedrive. All right? Ok, andiamo a generare il file. Ok, lui mi ha generato due file. Payload.py e decryptor.py. Perfetto. Poi andiamo a compilare il payload, quindi a trasformarli in eseguibili. Ok, finish. Ora qui parte, come vedi, qui partirà ora lo script. Che ci farà, ci creerà i file di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un ransomware as service. Quindi una parte rimarrà, l'avrò io, che è il decryptor. Una parte che è invece il malware, sarà quello che verrà inviato. Vuoi compilare il decryptor now? Sì. Ok, una volta che ha terminato, ti faccio vedere i file che ha generato. Che poi in realtà sono solo due, insomma, niente di particolare. Allora, apriamo questa finestrella. Questa per il momento la metto giù. Desktop. Dist. Ok, qui abbiamo il payload, che è l'eseguibile che andrò ad eseguire su questo computer. E il decryptor, che io copierò sulla mia macchina. Eccolo qua. Ora, questa io la sposto qui. Questo lo riduco e apro anche la cartellina delle foto, per esempio. Perché l'operazione è veramente veloce. Ok, lanciamo il payload. Payload partito. Tutti i file criptati. Un disastro. Un disastro. Tutti criptati. Ora, a questo punto, io chiaramente, l'attaccante, quindi la persona che esegue queste operazioni, come vedi anche il decryptor qui sul mio computer, qui sulla VM è stato criptato, per questo l'ho spostato sulla mia macchina reale, richiederà un riscatto. Quindi, a questo punto, io invierò a il malcapitato il decryptor e dalla console, che tu non puoi vedere, ma io ti faccio vedere... Dov'è qui? Eccolo qui. Eccolo qui. Questo è la key. È la chiave per decryptare. Quindi io dalla console vedo anche il... Ora, il country e la location non me la segna, perché ho disabilitato il geo IP, però volendo puoi anche sapere dov'è localizzato. Quindi, questa è la key, dicevo. Perfetto. Vado a rimettere il decryptor qui sul desktop. Lancio il decryptor. Faccio partire il decryptor. Lui mi chiede di inserire la chiave, che è quella che io ho copiato dalla console, e poi mi chiederà quale cartella voglio decryptare. Ora, se i file fossero, per esempio, molti, seleziono C e basta. Però in questo caso ho soltanto due cartelle principali, questa, picture e document. Quindi seleziono foto. Seleziona. Sì. Bang. Sono tornati tutti normali. Stessa cosa per i documenti. Documenti. Bang. Tutti i documenti sono tornati. Ora, qui, chiaramente, su questa macchina virtuale non ho PowerPoint, quindi questi file non li posso aprire a prescindere. Però, pptx è il file, come dire, buono. Ho le mie foto, che posso aprire, chiaramente, e vedere, e sono tornati tutte normali. Ecco, questo è il funzionamento di base del ransomware. Quindi, poi, ce ne sono altri framework, ci sono altre tecniche, altri modi più complessi, e anche più creativi volendo. Però, il funzionamento logico è sempre lo stesso, che è questo che hai appena visto. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace. Se hai delle domande, fammi sapere nei commenti, perché oggi è tutto. Grazie, al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.